Durante il bagnetto o un gesto affettuoso può capitare di notare la comparsa di piccole tumefazioni sul collo del proprio bambino. Cosa deve fare un genitore e quanto deve allarmarsi? La comparsa di una tumefazione cervicale in un bambino è sicuramente un'evenienza che crea ansia nei genitori. Fortunatamente la maggior parte di queste tumefazioni sono dovute a un aumento del linfonodo seguente a un'infiammazione del faringo tonsillare. È sufficiente una terapia medica appropriata che risolve il problema nell'arco di 4-5 giorni. Ma può essere qualcosa di più serio? Nel caso in cui una tumefazione persista da più di 4-5 settimane, superi i 2 cm di diametro e non vada in conto a regressione dopo terapia medica. In questi casi saranno necessari sicuramente degli accertamenti diagnostici clinici e strumentali che possono anche arrivare ad un'asportazione chirurgica a scopo diagnostico. L'evento più preoccupante di un aumento di linfonodo è dovuto a una causa neoplastica maligna rappresentata dai linfomi. Fortunatamente questa patologia ha un andamento caratteristico clinico che permette di porre una diagnosi in tempi utili per poter affrontare una terapia che per quanto lunga e pesante porterà a una guarigione del paziente nella maggioranza dei casi.